Ehi ragazzi come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph e questo è Gigi Crema Roblox E andiamo subito a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono Rella22, Pizza Kebab, Nadia, Serena, Ludovica e Ilaria Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione, vi ricordiamo che anche nell'outro saranno salutati altri 6 eroi E oggi siamo appunto su Roblox Andremo a fare un minigioco che a me piace tantissimo, lo so che lo dico per tutti No, non è vero Però questo è davvero uno dei miei preferiti, mi piace davvero troppissimo, ci ho giocato troppe ore Lo so che lo sto ripetendo ma sono talmente felice che lo devo enfatizzare al meglio Fammi spiegare allora che cos'è, vai Volevo dirlo io, scusa Vabbè, ti lascio l'onore di dirlo È un minigioco in cui dovremo realmente gestire un'intera pizzeria Esattamente, ci sono tutti i lavori che in una pizzeria vanno fatti e ogni player dovrà farne uno Inoltre ragazzi non ci sono dei bot che fanno questi lavori quindi se non c'è ad esempio nessun cassiere Davvero non ci sarà nessuno a prendere gli ordini e la pizzeria fallirà Esatto, è proprio difficilissimo, bisogna gestire bene tutti i lavori Infatti c'è anche un manager Esatto Che tecnicamente deve gestire al meglio tutti i dipendenti E per fortuna che non è ferinichi Io voglio fare il manager, lo sai che non ce l'ho mai fatto a fare il manager Lo so, lo so È una cosa tristissima Avresti licenziato tutti Sì, ho fatto tutti i lavori però sono davvero molto severa per fare il manager Allora Ok Facciamo vedere tutti i lavori disponibili Vai, vai, vai Esattamente, abbiamo il cassiere prima di tutto che ovviamente prende le ordini Poi abbiamo il pizzaiolo che ovviamente cucina le pizze Non so cosa sta succedendo a queste parti Guarda, guarda, sta già sbagliando Sta sbagliando tutto, ci sono pizze per terra Io sono bravissima come cuoco Andiamo avanti, ci penseremo noi a rimettere in riga questa pizzeria Non ci interessa del tuo talento E se non mi promuovono a manager io spacco tutto Te lo dico, lancio le pizze dalla finestra Dobbiamo far diventare famosa pizzeria, non devi spaccare Le lancio come frisbee Le regali? Le prepari per le regali lanciandole? No, le putto nel laghetto che c'è lì fuori Ok, va bene Te lo dico già Poi abbiamo quelli che impacchettano le pizze Non saprei dargli un nome Pizza Boxer però è carino Sì, chiamiamoli così Ovviamente abbiamo il porta pizze Che dovrà portare le pizze in tutte le case Perché ci sono delle persone che hanno fame e hanno voglia di pizza Come me nella realtà E quindi ovviamente le dobbiamo portare le pizze E voglio dire una cosa Cioè realmente il giocatore dovrà prendere le pizze Salire in macchina e trasportarle fino alla casa È bellissimo anche questo lavoro E infine abbiamo colui che diciamo porta gli ingredienti alla pizzeria freschi Perché ovviamente possono finire E invece trasportando gli ingredienti fai in modo che non finiscano Questo è un lavoro molto importante Certo, se la pizzeria non ha ingredienti il cuoco non può fare le pizze Esattamente E infine facendo tutti questi lavori quale si vuole diciamo Si guadagnano dei soldi E con i soldi abbiamo la nostra casetta Dare dare Questa forse è la cosa più bella La possiamo rendere più grande Cambiare colore Aggiungere degli oggetti dentro Insomma è il gioco perfetto Io vi ho visto alcuni player che hanno delle case enormi La mia è ancora piccolina Io l'ho già un po' arredata L'ho colorata Però ho visto dei player che hanno delle case infinite Bellissimo È davvero bellissimo Da cosa iniziamo? Dai cassieri Io direi di iniziare dai cassieri Così facciamo un po' di esperienza nella pizzeria E poi ci spostiamo Ma io sono già bravissima Non ci interessa All'attimo sei tuchini bisogno perché si scappa Ma che cosa Guardaci a prendere Sono qua Oh il meno appena pagato Perché a te hanno già dato soldi A me no? Grazie Come è possibile Ho lavorato sodo Mi sa che ci siamo solo noi a fare i cassieri Che dici? Ci siamo solo noi? Sì sembra di sì Allora aspetta Vediamo un attimino la signorina Possiamo dire Sì allora Una cosa bellissima È che possiamo anche insultare i clienti E ovviamente se gli insulti Si arrabbiano e se ne vanno E la pizzeria va male La nostra pizza garantisce che fa schifo Ad esempio c'è questa frase Attenta che alla sinistra c'è pure una macchina Ci penso io Tu pensa a questo cliente Io faccio la macchina Ok ok Guarda ho preso già un ordine Il cliente è soddisfattissimo Perché questa qui ha una torta sulla macchina È bellissima Vieni a vederla Aspetta Lascia i clienti Pregatene dei clienti Oh mio dio Ma la voglio anche io una macchina con una torta sopra È bellissima È bellissima È bellissima La Sousage Ricordami qual è Quella con i cerchi O quella con i pezzettini Quella con la sotticcia marrone Ok noi abbiamo preso tantissimi ordini Ma nessuno sta cucinando Quindi corri Andiamo a cucinare almeno un po' Ho notato che sta cucinando il manager Guardalo Questo dovrebbe essere il manager Sì infatti Lo vedi Lo vedi È il manager Scusi È una promozione Ma lo vedi che c'ha delle cuffiette Messe nelle orecchie È bellissimo questo personaggio Così non ci sente Scusa Scusa Una promozione Mi piacciono troppo i suoi capelli Comunque si dovrebbe promuovere Perché siamo gli unici che stanno lavorando qui dentro Manager Io non vorrei dire Però ci dovrebbe dare un po' di soldi Una bella promozione Guarda che ha cucinato tutto Questo è un manager che sa come si fa Aspetta un attimo Guarda com'è scarso a fare le pizze Osservalo È davvero scarsissimo Ma poverino Io sono 3000 volte più brava Guarda te lo dico Allora Sì Facciamo una cosa Abbiamo preso abbastanza ordini Guarda lui sta facendo un sacco di pizze Quindi direi che andiamo a consegnare qualche pizza Ok Comunque in cucina c'è lui Ci pensa al manager Quindi andiamo a consegnare qualche pizza Andiamo 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 Qua credo che ci sia davvero di tutto Infatti guarda quante pizze Guarda quante pizze Sono state abbandonate qua Allora bisogna metterle dentro la scatola E poi chiudere la scatola Chiudere la scatola e metterla nel nastro Aiuto Non riesco a mirare Aspetta aspetta Ok ce l'ho fatta Stai bloccando la mia Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Perfetto Allora andiamo a consegnare queste Tanto poi nel caso Se non entra nessuno Andiamo a prendere un altro po' di ordini E facciamo tutto noi Facciamo vedere Facciamo tutti i lavori Ti ho rubato la pizza No ma ne deve arrivare un'altra Giusto No ne ho preso due io per sbaglio No Allora andiamo dai Andiamo insieme Vabbè vieni con me Andiamo insieme Sì 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 Oh guarda Mi ha pagato adesso Perché ha detto che sto lavorando bene Mi ha fatto 150 Perché Scusi Scusi Aspetta aspetta Qui c'è un problema Lascialo in pace C'è un problema Lascialo in pace Vieni anche tu Vieni anche tu Sì sì ci sono Andiamo a dirgli qualcosa Perché davvero Queste cose io non le accetto Non le accetto io sto lavorando più di tutti Qui dentro Dove è finito? Stava facendo pure le ordinazioni Poverino Guardalo Allora Prendiamo questi due ordini Andiamo a consegnare le pizze Io sono con una pizza in mano Mi ha reso l'impiegato del giorno Non ci credo Guardami Guardami qua Perché Vedi non mi paga Ma mi rende impiegato del giorno Sono troppo felice Ah ma allora sei l'impiegata Perché lavori gratis Non ci provare Non ci provare Sono troppo felice Sono l'impiegata del giorno Allora Andiamo Andiamo Prendiamo questa E prendiamo anche questa Perfetto Andiamo Tu dove devi andare Allora io devo andare al B1 E al B2 Anche io al B2 B2 e C1 Quindi dai andiamo insieme Allora Pizza fuori dalla macchina In questo modo è fantastico Ci sei Boom Allora Allora Mi ha fatto uscire dalla macchina Ok ci sono È difficilissimo Non siamo molto professionali Sta macchina è davvero difficile Allora dove è il B2 B1 Allora B1 B2 è qua È qua È qua Vieni Come si scende Ok Ci ho fatta Oddio Salve Oddio Sto avendo problemi a parcheggiare Scusi la sua pizza Signore Ma chi è aperto Ma che è successo Ok È rimasta incastrata nella porta Oh grazie Deliziosa Grazie mille Allora Un tipo mi ha ringraziato Per la mia bellissima pizza Io sai cosa è successo L'ho messa dentro la porta Non ho visto nessuno Ma me l'ha dato compiuto È successo un bug È successo un bug Come sempre Anche a me Guarda 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 È bugato il B2 È bugato il B2 È colpa sua Non si vuole far vedere Secondo me Guarda questa qui Con gli occhiali Fighissima La vedi La macchina è mia Ah la blocchiamola E mi Scusa Scusa Se n'è andata Contro un palo Gli ordini sono Due pizze Ai peperoni Allora Devo prendere una pizza normale La poggio qua Ci metto del sugo Devi mettere Ci metto della mozzarella Ci metto i peperoni Devi fare le cose fatte bene No aspetta E poi la metto a cucinare Aiuto Giusto Aiutatemi Che succede Ci sta incasinando tutto Perché c'è C'è questa qui Ok Allora tu te ne devi andare Mi sta facendo le cose Sopra la mia pizza Vedi che la sta prendendo lei Te ne devi andare Guarda come si fa Te ne devi andare Ma poverina Lasciala Io ogni volta che trovo qualcuno Che mi intralcia nel lavoro Come te che stai Cioè Trascinando nel carrello Sto seguendo la mia pizza io Io gli salto davanti per due ore Guarda quella Sta andando a cuocersi Andiamo che noi Il cuoco è il mio lavoro preferito Non lo può prendere qualcun altro Aspetta Ti faccio un balletto Così ti calmi Non ci provare Non ci provare Aspetta Aspetta Cosa ti posso fare Una faccia spaventata No Perché il tuo balletto era troppo brutto Ok Che cattiva Guarda io faccio Ordini Nessuno prende ordini Guarda sto piangendo Oh no Povero Povero Steph Mi fai piangere Oh c'è una lattina Oh guarda c'è una pizza da fare C'è una pizza da fare La faccio prima io Lasciala a me La faccio Allora Non riesco ad appoggiarla Oh cavolo Allora Sugo Se cosa si fa Così in questo caso Dove l'hai mandata Via L'ho buttata Così impari Vai Vai C'è una bulletta Sì sì Uh c'è una peperoni La faccio io Fammi fare la pizza Ti guardo fare una pizza Sugo Formaggio Che ho missato Peperoni Ed è prontissima Mettila lì Guarda che velocità Guarda che velocità Stiamo impacchettando Tantissime cose Non so Guarda quante pizze da mettere Abbiamo intasato Allora Dovete metterle bene Perché se le cose Non si mettono bene Non funziona Ok Arrivano altre pizze O andiamo Non lo so No aspetta Dobbiamo fare una cosa divertente Vieni Vieni qua No non mi interessa Guardami Vedi E poi vieni qua E fai Non far ridere Dobbiamo essere dei lavoratori seri Andiamo a consegnarle Andiamo Allora Io mi prendo Due pizze Prendo un po' di pizze Le hai prese tutte tu E una lattina Sì Ho fatto lo stesso Ho fatto lo stesso Anzi Ho quattro cose Penso di aver preso quattro pizze Qualcosa del genere Esagerata Eh vabbè dai Almeno consegniamo tutto Andiamo Cerca di non sbattere Per favore a tutte le parti B1 A2 A1 Allora Io devo fare B4 A3 A1 A2 Quindi facciamo prima Anzi guarda Prima le B Perché siamo qua nella strada Ok Io vado nel B4 Che è questo qua Io il B1 Salve signore A me non sembra rosa questo È rosa Non lo noti perché è buio Però vedi il mio tetto blu Vero? Sì Il tetto è blu E invece è nero È un po' strana come cosa Non so perché non vedi i colori reali Della mia casa Allora entriamo Entriamo Vini vini dentro Allora è un po' piccola la casa Non mi piace il fatto Però penso che per allargarla Devi giocare tanto Giusto Non puoi comprare Il fatto di avere Devi diventare un manager Quello che tu non sei Ti sei curicato? Sì 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 Non c'è spazio Almeno mi metto a letto Così non occupo Capito? Allora Ci dobbiamo arrangare Guarda dove lo metto Guarda L'ho messo qui sopra Ah Bellino Ti piace? Ti piace? Non è troppo carino Adesso ti apri i cassetti Guarda No smettila Guarda Smettila 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 Ti rompo i cassetti Ok Ce l'ho fatta Oh fammi vedere Guarda Guarda Che è successo? Puoi aprire gli sportelli anche Sì Ma si è spaccato Non si è aperto da me Guarda Mi hai rotto il frigo Ti ho rotto il frigo Mi hai rotto il frigo Te l'ho totalmente spaccato Io adesso ti spacco la faccia Scappo Questo è perché sei già roso Che casa mia è bellissima È rosa Non è rosa Il frigo rosa Guarda Sì che è rosa Vieni fuori e dimmi che questo è un rosa È rosa È marroncino Un marroncino grigio Allora sai che cosa succede? È che tu stai vedendo I colori della mia casa Un po' distorti Però ti assicuro Che è rosa Sta mentendo Ed è carinissima Sta mentendo Sei geloso Sei geloso perché la tua casa è brutta Corri Sei solo un geloso Vieni correndo Vieni correndo Finalmente c'è il camion Lo sta usando qualcuno Ma li lo rubiamo Andiamo 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 a fare l'ultimo lavoro Dai L'ultimo lavoro Esatto È l'unico che non abbiamo fatto Lo sta facendo qualcun altro Ma adesso lo picchiamo un po' Guarda li vedi? Li vedi che c'è qualcuno Che sta facendo il lavoro È tornato il camion Mio Dio è bellissimo È troppo bello Vedi bisogna mettere Tutte le scatole Con gli ingredienti Dentro il camion E portarlo alla pizzeria Va aspetta che mi siedo Glielo rubiamo Scappa Aspettami Aspettami Ce l'ho fatta Sì Sto scappando il retromaccia Ci sta inseguendo Aiuto Aiuto È salito sopra Gli abbiamo rubato il camion E vabbè Anche ragione Ce li abbiamo rubato Guardaci che carini Seduti assieme davanti Guardaci Che stai combinando? Eh non ci passo È troppo grande Questo camion Quella lì sta facendo Un casino lì sopra Quindi mi fa sbandare Questo è un momento terribile Ho investito una persona Fai finta di nulla L'importante è portare L'ingrediente alla pizzeria Non credi? Ma non è vero Sì che è vero Assolutamente no Dai vai vai Ce l'abbiamo fatta? Aspetta devo frenare Oddio Vado tutto strano Ok ora si apre Noi entriamo Scendiamo Adesso tu devi prendere Gli ingredienti E metterli qui sopra Esatto E praticamente se tu guardi Diventano gli ingredienti veri Guarda Ma come facciamo a prenderli? Sono super in alto Devi saltare e cliccare Ok perfetto È un po' strano Li vedi gli ingredienti? Tipo quelli erano le pizze Questo qua è Stanno fruttuando Sì è bellissimo Questi sono i box Il cartone Il cartone E questo è il formaggio credo Perché è giallo Guarda Sì vedi Oh mio Dio è bellissima Ok ci fermiamo così per questo video Abbiamo fatto tutti i lavori Tranne il manager Che ci avrebbe permesso di Comandare un po' tutto Licenziare persone Farli tornare a lavorare Sgridarli Però sai Che penso Non ne sono sicura Ok Però penso che per il manager Devi pagare soldi reali Devi acquistare Proprio il tipo di lavoro Mentre invece gli altri Li puoi fare tutti tranquillamente È un peccato Se avrebbe stato meglio Se il manager lo conquista Sono di padellate in faccia Alla vecchia maniera Io volevo andare Farmi largo Farmi strada Diventare manager Invece no Peccato Vabbè abbiamo fatto tutto È stato divertentissimo Questo tipo di gioco È diverso dall'altro È molto carino Perché appunto Bisogna provare tutti i lavori Esatto Abbiamo portato un po' Diventata d'aria fresca Diciamo alla pizzeria Perché stavano andando malissimo Stavano andando malissimo Siamo stati migliori E adesso se tu guardi Stanno lavorando tutti Sta rifunzionando tutto Abbiamo dato il buon esempio Adesso a tutti È venuta voglia di lavorare Io mi prendo anche altri soldi Anche a me E ci hanno pagato Lo stesso tanto Finalmente Grazie mille Che valiamo lo stesso tanto No Io intanto ho sempre più soldi di te Quindi qualcosa vorrà dire Scusa Scusa Comunque Prima di finire il video Ovviamente andiamo a salutare Gli altri nostri Sei eroi del giorno Che per oggi sono Lisa Salvatore Dark Knight Angela Naima E Greta Ciao ragazzi Grazie mille per la condivisione Beh ragazzi Non è difficile così Se vi siete lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vi ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perderevi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Grazie mille per la condivisione